E poi un giorno le formiche rosse stufe di essere sempre vinte da noi decisero di distruggere le città formica. Fortuna che conoscevo la storia di Francia e ricordandomi della battaglia di Austerlitz ho potuto condurre i miei amici alla vittoria. Quel giorno fui nominato generale in campo. Joe, mi sto arrabbiando. Ancora un minuto, mamma. Scrivo l'ultimo capitolo sulle formiche. Povero Joe, sogna sempre. Quale presidente del consiglio di città formica, ti nominiamo nostro ambasciatore presso gli uomini. Torna presto tra noi. Torna presto, Joe. Annoieremo senza di te, uffa, uffa e ariuffa. La regina e io attenderemo con ansia un tuo ritorno, Joe. Addio a tutti. Addio, amici miei. Oh no, non è un addio, amici. È solo un arrivederci, credetemi.